ciao amici a chi non piacerebbe aumentare il potere brucia grassi del corpo senza fare niente ma non dici sempre che è impossibile beh oggi vi svelo un trucchetto se siete curiosi dai mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video le informazioni di questo video sono il risultato di uno studio internazionale sul metabolismo in particolare sugli orari del giorno in cui il metabolismo è più attivo allora c'è davvero il trucco certo concentrare le attività brucia grassi nel momento in cui il metabolismo è più alto permette di bruciare più grassi con lo stesso sforzo e ottenere risultati più in fretta sarà al mattino di sicuro e invece no gli studiosi hanno visto che il metabolismo è più alto nelle ore del tardo pomeriggio e della sera fare training in questi orari funziona meglio e da più risultati con lo stesso sforzo nello studio i partecipanti sono stati isolati per tre settimane in ambienti senza finestre e orologi così non potevano sapere che ore fossero avevano solo un timer interno per scandire i momenti del sonno e della veglia vi ho stupito vero allora chi non lo ha ancora fatto metta subito un bel mi piace secondo lo studio questo è il momento migliore per gli allenamenti brucia grassi la scelta se digiunare o mangiare prima del training è individuale ma una cosa è certa se il training è intenso meglio mangiare per scoprire altri facili consigli brucia grassi come questi c'è la mia playlist e iscrivetevi al canale è facile con un clic così attivate tutte le notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video vivi sano e dimagrisci grazie a tutti